Buongiorno a tutti, oggi è il primo aprile e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Futsimib. Innanzitutto vorrei farvi vedere come siamo andati a prenderci il gap down che è stato creato il 24 di febbraio del 2020. Come vi dicevo, con l'inverso vincolato a ribasso, ovvero rialzo per quanto riguarda l'indice, siamo andati a prenderci anche questo gap e lo abbiamo chiuso. Per quanto riguarda invece la giornata di oggi, vi faccio vedere come, a parte come cambiano rapidamente le cose, come vedete, che abbiamo avuto un ottavo T-3 inverso ieri, che è arrivato a 43 barre esatte, massima durata 44, prima di andare a far partire forse il nono T-3 inverso, o qualche cosa di diverso, perché dipenderà da se riusciremo ad andare a violare questo massimo a 24.777 oppure no, perché se avremo continuità di aggiornamento di massimi e di vincolo a rialzo per quanto riguarda l'indice al ribasso per quanto riguarda l'inverso, continueremo ad avere un T-3 che appartiene al settimanale inverso nato qui, il 18 di marzo, e che si sta sviluppando a salire. Mentre invece, se inizieremo ad avere un T-3 rialzista, dovremmo un attimo drizzare le orecchie per capire se sta partendo un uovo di settimanale inverso da qui, che spingerà quindi verso il basso. Come al solito, preferisco farvi vedere a quanto siamo arrivati di inverso anche qui. Come candele, siamo alla decima con oggi. Su massimo, lo sappiamo, mai 11. Quindi abbiamo, per oggi e domani, due possibilità di salita contro 11 di discesa. Come faremo a sapere se effettivamente si scenderà o si salirà? Come al solito, attraverso i swing e i swing inversi. Ovvero, come vi ho detto, primo punto di attenzione di 24.777 che se superati ci diranno che questo è il 9-3 inverso. Seconda cosa, se dopo le 10, in realtà un pochino prima, ovvero dopo un T-5 che diventi rialzista, andremmo in violazione di questo minimo a 24.636, e qui, dato che abbiamo avuto quanto di indice, quanto di settimoti meno 3? Abbiamo avuto 42 bar. A quel punto lì potremmo prenderci uno short comodo, comodo, comodo. Con target, questo livello di ritracciamento. Il 24.5, orientativamente. Poi, come sapete, con l'algoritmo saremo estremamente più precisi sempre in giornata e settimana. Per cui, attenzione. Vediamo qui, ma che crei la condizione sufficiente e una delle due c'è già per la partenza dell'ottavo T-3. Sappiamo che sono passate già tante candele. Qui è già un nuovo, è già un ottavo T-3. Si può togliere serenamente il punto di domanda. Valutiamo eventualmente uno short in relazione di questo minimo. Vedete, anche in questo caso, come vi dicevo ieri, la ciclica voluta, raccordi, bizzarrie a parte, ma non abbiamo oggi cose particolari, non è magari venerdì, non ci sono le tre streghe, e tutto quello che è, dà la possibilità di fare dei trade matematicamente e statisticamente validi tutte le volte che succede una determinata cosa. non sono decisi da me per tutti gli altri in base totalmente arbitraria, per cui non replicabile da nessuno. Fanno parte di un metodo che ha delle regole ed è quindi controllabile e replicabile. Chiunque lo puoi fare se lo impara. Questa è una cosa fondamentale che ho imparato sui metodi. Per quanto riguarda il DAX, per il DAX abbiamo che questo è il nono T-3 inverso, punto e fine del discorso, abbiamo già che appartiene ancora 38 barre su 44, al nostro T inverso, ma anche in questo caso siamo a 9 su 11 massimo. il tempo sta finendo per l'inverso. Anche in questo caso il sesto T-3 è partito da qui, possiamo togliere il punto di domanda perché abbiamo tutte le condizioni per sapere che è così, compreso anche il fatto che il quinto T-3 di indice ha chiuso qua a 36 barre e a questo punto, anche in questo caso, in violazione di questo minimo nel tempo ciclico corretto nel minimo a 14.975 valuteremo degli short. Anche se già nella realtà dei fatti il discorso è semplice. Vediamo anche quanto siamo arrivati di inverso e se vorranno eventualmente superare questo massimo che fa da secondo punto di controllo. Ok? Tutto facile, semplice, misurabile se si hanno non solo le basi ma si è entrati in questo metodo. Ultimissima cosa. Questo è lo stanno da imporso a 15 minuti. Stavo finendo di metterlo a posto appunto ieri. anche perché manca la parte dell'inverso. Se andiamo a vedere che cosa sta succedendo ieri abbiamo fatto di nuovo i massimi se non mi ricordo male ovvero 3.994 contro esatto 3.983 quindi 81, 83 ok quindi siamo arrivati a 11 bar di inverso che facciamo? Vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una splendida giornata perché la mia lo sarà sicuramente se avete bisogno di appunti gratuiti sono a disposizione. Buona giornata a tutti! Buona giornata a tutti! Grazie!